In Anfas si è tenuta la conclusione dell'anno formativo 2014-2015 che a settembre prenderà il nuovo anno formativo. È stato un anno comunque anche di addi in Anfas come quello di Lucas Spirito e dell'anno Acquistoli che erano due operatori che lavoravano. Abbiamo fatto moltissime cose con cienze agli altri operatori armando e Gianfranco e devo dire che mi mancheranno veramente un bel po'. Sono stati anni stupendi che mi hanno aiutato a crescere, a capirmi di più come persona e sono sicuro che in futuro affronteremo nuove sfide insieme per poterci migliorare sempre di più. Sono stati i mesi in cui abbiamo fatto karaoke, ho imparato a disegnare in quest'anno intero e mi è servito molto e per questo ringrazio tutti. dicendo che mi mancheranno molto e non li dimenticherò mai. Per quanto mi riguarda sono rimasto molto legato anche sia a Lucas Spirito che a Lanna Acquistoli che mi sono stati anche loro molto vicini pur non essendo miei operatori e così insomma. Poi volevo nuovamente riaugurare buone vacanze a tutti i miei operatori e alle persone che fanno parte del personale Anfas in generale. volevo augurare un buon futuro anche a chi se ne è andato come Luca e Lanna e sperare magari un giorno di vederli. Per il resto auguro buone vacanze a tutti e ci vediamo il 25 sempre con il sorriso sulle labbra. Ciao e buona vita a tutti. A presto. Samuele